Primo appuntamento dopo la Pasqua, insieme a sempre lui, Don Mauro Pallini, ancora una volta, buongiorno Buongiorno a tutti quanti voi che siete a casa, ci ascoltate, tutti felici e contenti, siete al lavoro, qualsiasi parte dell'Abruzzo e non solo, ci ascoltate Allora, siccome qui la Pasqua è stata tanto gioiosa, oggi vi devo parlare della Madonna che scappa Andiamo a Sulmona E qua che ti volevo E qua che ti volevo Solo lì ti fermi Non lo so, poi dove sta pure Perché adesso lo diciamo, dove sta Noi conosciamo molto quello che è la Madonna che scappa di Sulmona, come conosciamo anche il Venerdì Santo, lo struscio di Sulmona, il Miserere di Chieti, eccetera eccetera Però la Madonna che scappa, oltre a Spoltore, ce l'abbiamo a Entro d'Acqua, ce l'abbiamo pure a Lanciano, a Corropoli, ce l'abbiamo anche a Prato la Peligna Ah, insomma scappa un po' da tutte le parti E' addolorata sempre col velo nero e prende un velo bianco spesse volte A Sulmona, solo a Sulmona abbiamo il velo verde Che è il segno della fede più che altro Allora, tanto è vero, mi sono un pochettino informato, quella di Sulmona la conoscete a memoria, quindi senza che vi dico più di tanto Ma quella per esempio di Entro d'Acqua, sapete come si chiama? Non è che è la Madonna che scappa? La Madonna che vela, cioè vola Ah, vela In pratica, vela In dialetto In dialetto, no? E' sempre questa Madonna che viene portata a spalla comunque da quattro giovani Questi portatori in pratica cominciano poi a correre Perché lei, la Madonna, incontra il Cristo morto e quindi anche lei perde il velo nero Prende quello celeste e magicamente spunta anche per lei una bella rosa La cosa invece interessante è quella di Prato La Peligna Che dalla Madonna della Libera, il santuario famosissimo dove ci sta una festa mega galattica Ci vanno pure anche delle cantanti famosissimi ogni anno quando si fa questa festa La Madonna e Cristo morto escono dalla stessa chiesa ma prendono strade diverse Poi si incontrano in piazza e alla fine c'è sempre questo antirivieni Infatti la Madonna e Gesù poi ci sono anche tra i famosi inchini che si fanno E la madre e il figlio si salutano E poi c'è la processione per tutto il paese Questa pratula Mentre la cosa interessante è che a spoltore La Madonna non viene avvisata della risurrezione di Gesù da Giovanni Perché solitamente anche a Sulmona ci sta sia San Giovanni e San Pietro Che vanno ad avvisare la Madonna per tre volte Poi alla fine Giovanni non gliela fa, Pietro non gliela fa, ritorna il Giovanni e la Madonna si convince di uscire A Sulmona è la bandalena invece Stranamente è lei che saputa la risurrezione di Gesù Va dalla Vergine per tre volte annuncia la risurrezione Solo la terza volta la Madonna si convince Va verso a metà piazza e quindi c'è questo incontro Di lei con il figlio perde il manto Nero e ha soltanto il vestito bianco La Madonna si vede nei capelli Mentre la Madonna sembra il vero Invece a spoltore non funziona così La Madonna ha soltanto l'abito bianco E poi ovviamente c'è anche San Giovanni lì vicino A Lanciano invece si chiama l'incontro dei Santi Ci sono delle confraternite in pratica Che prendono la stade di Cristo Risorto La stade di San Giovanni e vanno in piazza davanti alla Madonna del Ponte Dice Cristo Risorto che aspetta Comunque arriva San Giovanni Sempre tre volte viene Per salutare Gesù e andare a prendere la Madonna Che si trova al miracolo eucaristico Alla terza volta la Madonna scende Quando arriva in piazza si toglie il velo nero E va incontro al figlio Ci sono i varinchini E poi tutte e tre statue Entrano dentro a Lanciano Alla cattedrale Mentre a Corropoli Cosa stranissima Tutto questo si festeggia martedì Dopo Pasqua Addirittura Si allunga il martedì Si inizia dalla mattina fino a mezzogiorno Quindi contate che la Madonna A mezzogiorno perde l'abito Quindi tutto il giorno Giovanni va girando Per tutto il paese di Corropoli Poi alla fin fine arriva Ecco porta la Vergine davanti al figlio risorto Quindi c'è questo E' il vescovo stesso che toglie il velo E mette una corona Perché lì a Corropoli c'è la statua di Maria del sabato santo Quindi la gente è molto devota E pertanto il vescovo gli toglie il manto nero Alla Madonna gli mette una corona d'oro E un cuore qui al petto Come a dire la Madonna è risuscitata Cioè felice per la risurrezione del figlio Tutte queste cose sono belle Sapete per quale motivo secondo me? Per il semplice fatto che è una tradizione popolare Una manifestazione pubblica di quello che è il sentire della gente Tante cose nella vita Lo diciamo pure ai nostri carissimi amici Che sono a casa Che spesse volte stanno un po' Ecco immersi in tante sofferenze Che purtroppo nella vita non si cambiano Però si possono vivere in maniera diversa Quindi certe cose non si tolgono Come la morte di Gesù non si è tolta Però lui è risorto Quindi tante cose nostre non le possiamo togliere Ma le possiamo vivere in maniera diversa Con un cuore e uno spirito gioviale Quindi anche il lutto Anche le cose nere si possono trasformare L'importante è volerlo E vivere tutto in maniera diversa E allora ecco Scappiamo pure tutti quanti noi In giro per le strade di questo mondo Portando la gioia anche di questa Pasqua Ma la gioia anche di incontrarci Di vivere un po' come fratelli e sorelle In questo mondo Che certe volte ama di più le telebre e il buio Che invece la gioia di incontrarsi Vero Vero Grazie Don Che bello Lanciato questo bel messaggio Senti una piccolissima curiosità Ma alla fine di tutto Vedi la fine sono in tanti questi posti Ma dov'è che nasce proprio questa tradizione? A Sulmona? A Sulmona la più antica La più antica è quella di Sulmona Tant'è vero Spoltore si lega Quella di Spoltore si lega a quella di Sulmona In fortuna non soltanto che condividono Il suo santo protettore San Panfilo Ma pare che ci sia stata una reliquia Che da Sulmona si è arrivata anche a Spoltore E c'è una famiglia proprio di Spoltore Il casato di una famiglia Che se non ricordo con esattezza il nome Che porta avanti un po' questa tradizione Che credo sia però centenaria Cento anni di vita Quello di Sulmona invece Molto probabilmente anche risale un po' al meglio Evo Per alcuni versi Vedi Benedetta io e te che l'altro giorno ci chiedevamo Ma io avevo perché Entrambi dicevamo Abbiamo sentito che non è in cesso lo Sulmona Poi abbiamo scoperto Spoltore Ma ci eravamo fermati lì E grazie a te abbiamo scoperto anche tutti questi altri posti Dove la tradizione non manca Non manca sicuramente Grazie mille Don Mauro Grazie